Per la prima volta il Comune di Napoli diventa promotore di Teleton, la fondazione che si occupa della ricerca sulle malattie genetiche rare e in particolare sulla distrofia muscolare. Dalla mattina di venerdì 16 fino alla mezzanotte di domenica 18 dicembre, la tradizionale maratona per la raccolta dei fondi si terrà in Piazza Dante, con iniziative e spettacoli animati da musicisti, attori, danzatori e burattinai che si esibiranno gratuitamente per tutta la giornata. Napoli è una città della solidarietà che ha dato sempre risposte importanti e quindi il Comune è in prima linea per appoggiare, informare e comunicare. In questo Natale, anche difficile e di crisi, siamo convinti che i napoletani daranno un segnale forte per la ricerca e per la vicinanza ai più deboli. Ringrazio tutti quelli che hanno contribuito, molti artisti gratuitamente. La ricerca sulle malattie rare, in particolare sulle malattie genetiche, necessita di Teleton, perché le industrie farmaceutiche non hanno grande convenienza a fare ricerca su malattie così rare. Oggi la ricerca pubblica si orienta molto a finanziamenti in partnership con aziende, cioè si vuole una produzione immediata, qualcosa che abbia una ricaduta economica immediata e la ricerca per malattie rare non può avere una ricaduta economica immediata. Poi c'è una commissione scientifica di 40 esperti internazionali, non italiani, e questo è molto importante, che dà un parere su ciascun progetto di ricerca. Si punta naturalmente a migliorare la cifra raggiunta lo scorso anno, quando furono superati i 32 milioni di euro. Napoli, ha ricordato la responsabile territoriale Ilaria Penna, fu allora la seconda provincia più generosa d'Italia, con oltre un milione di euro raccolti. Noi stiamo in piazza per tre giorni, 16, 17 e 18 dicembre. Come me, come lui, Salvatore, ci sono anche altri volontari. Loro è una squadra, which are hockey, hockey in carrozzina, che giocano in tutta Italia. C'è un campionato che inizierà a gennaio. Ho fatto volontariato, poi ho fatto l'anno di servizio civile, comunque sono rimasto sempre con loro. Tra gli artisti che parteciperanno a Teleton in piazza Dante, Ghis Livovitz, Marco Zurzolo, Giovanni Bloch, Max Puglia e la Bagnoli Power, e l'attore Francesco Paolantoni. Io ci sarò sabato sera insieme alla Ribes. Farò il suo valletto. Insomma, su fatto che uno è buono a Natale, una fassaria, anche perché stiamo talmente guaiati che dovremmo essere veramente buoni per tutto l'anno.